Sì, vorrei un attimo chiarire al pubblico l'iter che è stato fatto. Sicuramente la prima proposta di delibera aveva bisogno, e questo l'hanno evidenziato, i pareri degli uffici con le loro osservazioni di modifiche, modifiche tecniche e anche di migliorie. Questi sono i risultati negli emendamenti, anche perché è stato un percorso molto lungo, che ha portato questa delibera a raccogliere evidentemente i pareri di ben sei strutture, di cui il Dipartimento di Sviluppo Economico ha coinvolto due direzioni, che l'hanno finalmente portata a un livello di dettaglio molto spento, un livello di dettaglio che un consigliere naturalmente non può incarnare in una singola entità. Quindi io ringrazio gli uffici per il lavoro che hanno fatto sicuramente, e a differenza della delibera madre e delle delibere successive, finalmente si è fatto un lavoro approfondito che ha portato a delle migliorie anche nella delibera base. Grazie.